Buongiorno amici, in questo video vi diremo tutti i metodi per risparmiare in Lapponia e anche in generale in Scandinavia, Nord Europa, metà più cara in assoluto in Europa, a parte l'Islanda e vi diremo anche quanto si spende in generale, quanto costano le varie cose e quanto abbiamo speso noi in un mese e mezzo Parliamo di accommodation in Lapponia, le accommodation sono devastanti, sono la cosa più cara a cui devi far fronte quando vuoi fare un viaggio in Lapponia L'hotel più scrauso e più economico non costa meno di 70 euro a notte, è proprio impossibile e noi li scoviamo sempre quelli più economici, non c'è verso Però c'è un lato positivo, hanno quasi tutti, quasi sempre il bagno privato, perché qua la cosa del bagno in comune ho notato che non va e hanno quasi sempre la sauna inclusa nel prezzo, perché qui la sauna è una specie di istituzione E poi che altro dire della accommodation? Ah, un'altra cosa che va molto è la cucina Di solito, oltre alla camera, c'è sempre una cucina, un'area comune dove puoi cucinare o perlomeno mangiare con piatti, posate, delle cose che ti compri quindi è una buona cosa per non andare a cena fuori perché anche i ristoranti se ne parla in un prossimo mini capitolo, ma lasciamo stare quindi sì, le accommodation sono belle e ben organizzate e con tanti comfort, però sono care Allora, parliamo anche di attrezzatura, perché l'attrezzatura è una di quelle cose che costa e che serve per un viaggio in Lapponia perché non puoi venire in jeans o in tuta o in leggings semplici o puoi, e neanche in felpa normale quindi l'attrezzatura è una di quelle cose che costa e che può essere un deterrente costa troppo, quindi non ci vengo allora, io, soprattutto io dico, perché lui non legge mai niente io mi ero informata un sacco nei vari gruppi, nei vari blog, nei vari news su quanto potesse costare l'attrezzatura e su che attrezzatura prende effettivamente avevano detto calzini, lana merinos, avevano detto intimo tecnico, che sarebbero pantaloni e maglietta avevano detto tanta roba di pile, avevano detto scarponcini impermeabili e caldi giacconi, poi che altro? guanti, muffole, perché le dita a contatto stanno molto meglio rispetto alle dita separate e alla fine però leggevo dappertutto che dovevi spendere 700-800 euro di attrezzatura cosa che non è assolutamente vero cioè, se tu non spendevi questi soldi, prendevi dell'attrezzatura scadente e sei morto congelato non è vero no, allora, siccome noi non andiamo spesso in queste terre artiche non avevamo voglia di spendere uno stipendio per dell'attrezzatura perciò abbiamo detto, boh, proviamo a prenderla un po' meno costosa siamo andati praticamente solo da Decathlon a prendere la nostra attrezzatura abbiamo preso tipo questi pantaloni che sono anche quelli che ha lui non sono pantaloni, sono intimo tecnico sono costati 5 euro e anche la maglietta in 10 euro ci siamo messi in due pantaloni e maglietta entrambi poi abbiamo preso i calzini di lana Merinos che sono stati la cosa più cara che abbiamo preso sono stati abbastanza cari questi ma i calzetti servono perché se hai freddo ai piedi hai freddo a tutto il corpo non importa come sei vestito però se hai freddo ai piedi hai freddo a tutto il corpo quindi è meglio così poi abbiamo preso i pantaloni apposta i pantaloni termici, tecnici ne abbiamo presi due paia a testa ma questo è il meno caro in realtà quello che avevo oggi questo costa 20 euro l'unico difetto che gli trovo è che non ha le tasche ma per il resto sono ottimi tengono molto caldo e ne abbiamo presi due paia a testa sempre da Decathlon e anche lì quello che è costato di più è costato 40 euro il paio pantaloni dici? eh tutti dicevano il mio è costato quasi 60 sì sì è quello più caro l'altro comunque non devi spendere centinaia di euro come dicevano perché sennò i pantaloni morirai pantaloni da sci da 300 euro altrimenti poi hai congelato non è vero perché hai l'intimo tecnico e poi ti metti i pantaloni sopra sono quelli che dal Decathlon c'è scritto resistenza fino a meno 17 mi pare vanno bene vanno bene vanno bene e poi anche il discorso muffole io questi guanti li ho presi a talli in realtà sono costati 3 euro e 50 ma sono di lana spessa sono grossi molto pesanti quindi vanno benissimo non ho avuto freddo alle mani finché non me li sono solti per fare le foto anche io avevo i guanti non muffole ma sempre dei guanti di lana presi da OBS pagati pochissimo e non ho avuto freddo alle mani quindi siamo stati abbastanza bene poi comunque le mani quando non le usi tieni in tasca perché aiuta anche se hai i guanti e poi tanta roba di pile anche quella del Decathlon perché quello lì è un golfino di pile del Decathlon io ce l'ho uguale da donna pile 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 non serve spendere si non serve spendere un bordello di soldi basta che prendi della roba in pile anche questa è una maglietta del cavolo in pile il pile tiene caldo evitare il cotone perché non tiene caldo pile pile a manetta pile anche il passamontagna su Amazon 12 euro 2 passamontagna c'era l'offerta è rigorosamente in pile anche questo e tiene un caldo indegno soprattutto alle orecchie, al naso e alla bocca che sono le parti scoperte dal cappello infatti poi vi farà freddo questa parte qua che non credete poi il cappello basta un berretto normale da inverno e la sciarpa uno sciarpone normale da inverno il giacone si serve un giacone abbastanza pesante di vario tipo io ho un refrigio e lui ha un giacone editato dal babbo sì, quindi non so quanto viene mi dispiace però sì non so quanto viene e preparatevi perché nei posti al chiuso sparano il riscaldamento a manetta quindi bisognerà levarsi degli strappi a proposito, occhio ai treni occhio ai treni io non ho sofferto mai così tanto con il riscaldamento come sui treni qua insomma, questo piccolo schiaccio è servito a dire che non è vero che bisogna spendere mille euro a testa di attrezzatura per un viaggio in da poi non è vero va bene anche il decatron basta che sia pile che sia roba calda che non andiate in jeans che vi mettiate più strati semplicemente tutto qua allora, parliamo dei mezzi pubblici i mezzi pubblici in Lappogna come tutta la Stabilia sono cari anzi, sono ancora più cari in Lappogna perché un autobus che ti porta da una cittadina a un'altra può costare 30 euro in due e l'autobus di linea il cittadino ad esempio per andare in Lerogna e mi ha guidato in Lago Natale costa un casino costa 4 a una persona e fa solo 8 km andata e altri 4 a ritorno e i mezzi pubblici in generale costano un casino tram, bus proprio interni nelle cittadine un pelino più convenienti i treni a lunga percorrenza che come prezzi sono più accettabili perché sono treni che comunque fanno ore e ore di distanza fra una cittadina e l'altra e costano meno in proporzione ad esempio il treno Helsinki Rovaniemi costato 99 euro in due ma sono 12 ore di treno quindi in proporzione sono più convenienti le lunghe percorrenze che spostarsi nelle brevi distanze diciamo i mezzi pubblici sono questi noleggiare una macchina secondo me non è proprio consigliatissimo perché c'è sempre ghiaccio e neve perenne sulla strada quindi non è necessario a guidare e poi comunque credo che costi perché mi prende una macchina di un certo tipo e noleggiare una macchina non è una cosa ecco non so se si è sentito perché ha la mascherina ma la benzina costa 2 euro al litro che per loro con gli stipendi che hanno ci può stare ma per gli stipendi nostri non è molto più e parliamo dei ristoranti in Lapponia avrei voluto fare questo video al ristorante ma mi sono scordata perché davanti a me avevo un panino veramente buonissimo e quindi non ci ho pensato ma ti hai riportato la copro? nemmeno perché mi ha buon d'acquadino e i ristoranti allora noi in Lapponia il ristorante l'abbiamo evitato come la peste lo stiamo evitando come la peste e lo eviteremo come la peste perché i ristoranti sono cari 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 e cioè sarebbe uno spreco di budget assurdo diciamo che la cucina d'acqua non sembra neanche malvagia si vi piace la carne perché cioè vi renderete conto che vegetariani non si può essere in un posto dove non si può coltivare niente però sono cari spendi 40 euro a persona per una cena o un pranzo e non ne vale la pena anche 50 se ne posso sbagliare se si fuona dal ristorante si può optare o per delle catene dei fast food tipo Buster Burger all'oleo dove siamo stati stasera by the way e dove spendi normalmente sui 30 euro però mangi dei panini abbastanza grandi oppure ci sono i buffet dei ristoranti asiatici che in tutta la Scandinavia costano abbastanza poco si e vanno qui vanno i buffet di cucina asiatica che sono you can eat e più o meno con 10 euro a persona 20 euro 20 euro mai 13 euro a persona a cacera te la cavi hai l'acqua inclusa perché qui l'acqua non si paga mai perciò gli unici ristoranti affordable sono quelli perché se no i ristoranti sono un serio problema invece andare al supermercato non è male nel senso che non si spende tantissimo e trovi anche delle buone cose perciò è un'alternativa molto valida attrezzatevi con luoghi dove ci sia una cucina o dove ci sia dei piatti e robe così perché il supermercato si risparmia in sostanza la Lapponia e la Scandinavia in generale sono una meta molto cara probabilmente se veramente si esclude dell'Islanda sono la meta più cara che si può visitare in Europa quindi come risparmiare? allora sui mezzi pubblici non c'è verso nel senso che sono cari cioè come prendi un bus o prendi un treno paghi una sassata di soldi non pensatevi che noleggiando le macchine si risparmi perché comunque il prezzo del carburante è proporzionato è folle l'alloggio se si riesce a risparmiare sull'alloggio magari facendo un'esperienza di lavoro volontariato che vi dia l'alloggio è tanta ma tantissima roba sì perché in media sono 65-70 euro in meno ogni giorno esatto quando va bene perché comunque la Pogna costa anche di più perché da Bisco era quasi 100 abbiamo speso per due giorni tipo 180 euro e qualcosa quindi sono più di 90 euro a note vabbè che è un posto particolare noi siamo riusciti a stare un mese con l'alloggio completamente a gratis e anche tutti i pasti perché non abbiamo mai pagato nemmeno un pasto ma qualcuno in realtà sì ma siamo usciti fuori però se riuscite a trovare un'esperienza di questo tipo con alloggio fondamentale e magari anche i pasti andate a cavallo per i pasti mi raccomando se proprio volete mangiare fuori informatevi sui buffet locali perché in Svezia ce ne sono tantissimi e costano veramente poco e mangi tutto quello che vuoi quindi magari ti riempi di brutto e non ceni esatto quella è una buona cosa perché anche i pasti sono stracari l'acqua mi raccomando non compratela perché l'acqua è potabilissima quella del rubinetto è anche meglio di quella in bottiglia è buonissima risparmiate i soldi dell'acqua e poi se volete venire qui e prendere bus e treni per vedere i posti e magari pagare anche qualche attrazione tipo slitta sui cani villaggio di montaglio perché fai nulla fa e lo slitta sui cani spenderete cioè non c'è verso noi con un mese di alloggio gratis e un mese di pasti gratis non ci siamo comunque privati di andare ogni tanto a qualche buffet locale non ci siamo privati di visitare posti quindi prendendo treni e autobus non ci siamo privati di fare esperienze tipo slitta con i cani tipo villaggio di babbo natale poi cosa abbiamo fatto un po' di cose le abbiamo fatte se no che cavolo c'è da fare in giro va bene l'alloggio gratis però noi non ci siamo privati di qualche pranzetto cenetta di qualche attrazione e nonostante l'alloggio gratis per un mese in un mese e mezzo totale di scandinavia abbiamo speso poco meno di 2000 euro che è tanto è tanto tanto ma è impossibile fare di meglio in questa zona comunque considerando che sono compresi alloggi mezzi cibo non è neanche così male però con un mese di alloggio è vitto gratis perché senza quel mese senza quel mese ne avevamo spesi molti di più ne avevamo speso molto di più non è una meta low cost non è una meta per backpacker ma volevamo vedere l'aurora boreale e volevamo fermarci qui quindi l'abbiamo fatto sicuramente è un budget elevatissimo che in altre zone del mondo no no è tantissimo per altre zone esagerato però YOLO è così allora alla prossima amici alla prossima avventura che sarà super figa è completamente diversa da quelle viste finora completamente diversa anche perché se devo fare una cosa uguale la faccio a fare ciao